Perché non avete fatto l'incontro? Io non sono delegato a incontrare nessuno per parlare di una legge così importante. Gli incontri si fanno in parlamento alla Commissione Affari Costituzionali con queste persone che sono state delegati per rispondere, per fare le leggi dai cittadini. Io no, non ho nessuna delega di parlare con chi? Con chi? Con uno che cinque giorni prima dice Berlusconi che muove e ha fatto un fatto con un condannato, così, di nascosto, messo lì dentro, in una sede privata, Berlusconi che esce scortato dalla polizia con una condanna passata giudicata, adesso devo o fare gli agressi domiciliari o lavori. Ma dove, dove, dov'è un paese così? Scortato dalla polizia. Ma stiamo scherzando? Non ha nessun valore di questa legge elettorale che stanno facendo questi due è assolutamente per fermare noi. Siamo la variante impazzita che non riescono a fermare. Siamo la variante impazzita che non riescono a fermare.